buongiorno sole magnifico infatti io sto pulendo la camera ciao qui sto pulendo la camera qui c'è il mio swiffer sto anche ascoltando un po di musica adesso continuo a spolverare eccoci qui allora adesso stiamo appunto uscendo quindi niente mi sono tutta la piastra mi sono truccata andiamo sofi usciamo dai usciamo ragazze eccomi allora oggi è martedì 10 aprile e niente sono qui da mia mamma perché mia mamma è salita qui in campagna e quindi io sto trascorrendo qualche giorno qui e più tardi insomma starò tutto il giorno qui più tardi scenderò e andrò appunto a casa sofia momentaneamente sta dormendo insomma abbiamo fatto una passeggiata così all'aria aperta con con il passeggine ed è crollata minimamente e niente sicuramente quindi pranzo qui e andiamo messa preparando la la pasta alla matriciana nel frattempo aspetto dei pacchi ma speriamo non arrivino adesso che sono praticamente fuori casa comunque appena arrivino vi faccio vedere un po cosa 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 mi è arrivato e tra l'altro anche aspetto anche un pacco del del sito chic room dove vendono tantissime cose di marca a buon prezzo a prezzi veramente ottimi scontatissimi e tra l'altro l'azienda mi ha anche lasciato un codice sconto per voi il codice sconto è carmen 10 adesso comunque appena mi arriva questo questo pacco di vi farò un po vedere niente e adesso sono qui in macchina il tempo è un pochino nuvoloso speriamo si riprenda un po a caso anche le cose stese i panni stesi adesso vediamo se peggiora scendo tanto è vicino casa mia da casa in campagna di mia mamma che sono mai scendo e vado ad entrare i panni però non penso che piova e comunque nel pomeriggio in ogni caso dovrò scendere a casa quindi niente nel pomeriggio rientrero e niente ragazze io appunto sono qui nella macchina mi sto rilassando c'è una caloria bellissima e niente ragazze in tantissime mi chiedete che colore faccio ai capelli allora i capelli sono la base del mio capello del tutto naturale ho solamente fatto un degrade sulle sfumature del biondo io non ho mai fatto in vita mia colore perché ho sempre avuto un bel colore di capelli quindi non ne ho mai sentito il bisogno però ultimamente così per il battesimo della bambina volevo un po cambiare e quindi ho deciso di fare questo degradè niente mi piace molto l'effetto vabbè oggi sono un po di un pochino scombinata con i capelli comunque volevo anche dirvi che poco fa sono andata in sanitario e volevo farvi vedere sono ancora qui in macchina insacchiati e questi yogurt questi yogurt qui che sono della plasmon con cui sua figlia si trova davvero davvero bene allora questo qui è la banana lei mangia solamente quello della hip e questo della plasmon perché la melline le fa un po di scusate la bel colore nelle mani che devo devo rimettere lo rimotto nelle mani comunque questo qui è della plasmon le piace tantissimo e quello della melline stavo dicendo che le fa molta acidità quindi questo qui alla banana poi c'è questo qui aspettate che controllo questa alla pera e poi come anche l'ho preso anche al al biscotto quindi yogurt e biscotto con questo veramente sofia si trova benissimo le piace da morire e quindi il pomeriggio facciamo merenda con con questi qui davvero molto consigliati allora io sono sceso un attimo a casa così entro i panni stesi sofia rimasta con i nonni santi nonni sofia si è appena svegliata amore si è appena svegliata ciao ha fatto un due tre orette di dormire quindi ha dormito parecchio oggi vero mamma si è graffiato il nasino sì sì oggi abbiamo il codino allora è arrivato un pacco vediamo cosa cosa c'è dentro vediamo spacchettiamo allora ok allora è arrivato vediamo un bigliettino un bigliettino da merci henry sicuramente molte lo conosciete merci henry vediamo un po' cosa cosa c'è dentro vediamo vediamo sono curiosa sono curiosa di sapere allora questo qui sono dei gel sapone poi questo qui questo qui tre gel mani ognuno con una profumazione diversa li trovo davvero molto carini perché quando si esce in borsetta entrano veramente tranquilli sono molto molto comodi vediamo le profumazioni davvero buone davvero davvero molto molto buone ragazze quindi se volete acquistarli andate sul sito veramente sono ottimi da portare sempre sempre con sé ok allora sono un paio di occhiali che mi ha mandato l'azienda chic room della appunto della gas questa azienda vende cose diciamo tutte firmate quindi trussardi gucci gas insomma un bel po' di marche inoltre ho un codice sconto per voi che adesso vi dico il codice sconto è carmen10 e niente sono molto belli questi sono yes grazie mille a questa azienda grazie 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 ragazzi sono a casa mi è appena arrivato un altro pacco è un pacco che io aspettavo tantissimo ed è questa qui la la lollipop baby camera non vedevo l'ora che arrivasse adesso l'ho spacchettata adesso la monto vediamo come come funziona comunque vi farò un video come come recensione per parlarvi di questo di questo prodotto eccoci qui ho installato la lollipop cam sono veramente contentissima di questo prodotto vi farò a più presto un video perché secondo me è un prodotto utilissimo per le mamme per stare un po' più serene e più tranquille quando i bambini dormono e osservarli da lontano e tra l'altro riproduce anche delle canzoncine carissime ecco qui lo è installato per cane ok qui c'è l'amore mio e il vero amore che è dormito nel lettone di mamma infatti è tutto scombinato eccoci qui guarda amore saluta ciao oggi è stata una bellissima giornata con daniela giulia e jessica seguitele su instagram caso mai vi lascio il link sotto il video dei loro appunto blog e del loro account instagram ciao amore saluta che bella questa bambola che bella ciao e niente ragazze fuori ancora c'è luce è bellissimo quando si allungano le giornate sono già le sei e mezza e ancora appunto c'è luce fino alle otto nove oggi dai tiger ho comprato questo block notice che è costato se non sbaglio due euro poi ho comprato anche quei palloncini lì con i numeri le lettere devo fare la foto a sofia per con il numero 7 dei sette mesi quindi devo appunto l'ho gonfiato si gonfiano questi qui con la cannuccia e sono costati un euro ci sono sia dorati che argentati questa la utilizzo per diciamo per youtube per instagram per le collaborazioni anche per appunto progettare i video vorrei appunto preparare i sofficini del conad che a noi piacciono tanto e da tanto comunque che non li faccio quindi così vorrei sbrigarmi stasera quindi faccio questi ve li faccio vedere sono questi qui appetitosi del conad ecco e niente amore ora noi facciamo il bagnetto noi andiamo a fare il bagnetto vediamo se quanto è lungo questo video non so se riprenderò in caso ma ci vediamo dopo oppure vi saluto adesso andiamo a fare il bagnetto noi sto crescendo ragazze sto crescendo è fatto grande guardate è lunghissima è vero mamma ora è vero il ragazzo non so se tempo è vero ma